Buon inizio per i saldi invernali a Lecco, nonostante le temperature sempre più fredde, il cielo ballerino. Sarà perché mentre il termometro scende i prezzi vanno sotto zero, meno 20, 30, 50% sulle vetrine e nei negozi del centro. Si chiude così la prima settimana di fuori tutto post feste natalizie. Un primo bilancio lo si potrà fare a fine gennaio perché i saldi invernali che sono i saldi tipici del nostro sistema commerciale, ancorché durino 60 giorni, sono le prime settimane. Per fare un primo resoconto bisogna aspettare assolutamente fine gennaio. Quello che posso dire è che nonostante il meteo non favorevole dal 5 gennaio a questa parte, l'inizio è stato promettente. Si spera che venga consolidato questo trend.